Sono riprese oggi in Puglia le vaccinazioni con AstraZeneca e sono state riprogrammate le somministrazioni, rimaste in sospeso dopo lo sblocco da parte di Haifa e del Ministero della Salute. Lo stop momentaneo all'uso del vaccino AstraZeneca non altera l'andamento della campagna, ha dichiarato l'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco. Questa pausa è stata necessaria per chiarire una cosa, tutti i vaccini contro il Covid-19 sono ugualmente sicuri ed efficaci. La fiducia nella vaccinazione, unica arma che abbiamo a disposizione per tornare a vivere, non è dunque scalfita. Al momento la Puglia con l'82% dei vaccini effettuati si conferma in cima alla classifica nazionale, preceduta solo dalla Valle d'Aosto e dalla provincia autonoma di Bolzano. Su 581.545 dosi consegnate in Puglia ne sono state somministrate 483.672, di queste 128.660 agli over 80, 83.257 al personale scolastico e universitario, 13.443 alle forze dell'ordine. Per queste ultime due fasce la Puglia ha raggiunto una copertura del 90% della platea con la prima dose. Oggi inoltre sono state consegnate 250 dosi al personale specializzato del Dipartimento di Prevenzione della Asla di Taranto, riservata ai militari in servizio. 100 dosi al Comando Legione Carabinieri di Bari. La prossima settimana inoltre partiranno le prime vaccinazioni con Pfizer nel carcere di Bari, destinate a detenuti e agenti penitenziari con patologie che rientrano nei fragili secondo le disposizioni ministeriali. E sono state calendarizzate anche le vaccinazioni per tutti gli altri ospiti della casa circondariale con AstraZeneca. Le vaccinazioni nella stessa settimana partiranno anche nel carcere di Trani e Lecce. Nelle Asla pugliesi in ultimo è in corso la riprogrammazione della vaccinazione con AstraZeneca per tutte le categorie interessate.